Nuova vita per la pista Zengarini. Dopo anni di attesa l'amministrazione comunale di Fanno ha annunciato l'importante intervento di potenziamento e di riqualificazione del circuito grazie al piano nazionale di ripresa e resilienza dedicato allo sport e all'inclusione sociale. In città dunque sono in arrivo 2,5 milioni di euro ai quali il comune ne aggiungerà 1,5 per realizzare tutti gli interventi previsti. Il progetto è suddiviso in due cluster. Il cluster 1 include la realizzazione di un nuovo rettifilo, in questo caso lungo 106 metri, all'interno del quale verranno incluse più discipline sportive, dalla scherma a quello che è il tiro con l'arco e anche tutto un po' le variabili dell'atletica. Mentre per quanto riguarda il cluster 2 ci siamo candidati e abbiamo anche ottenuto le risorse per riqualificare quello che è la pista ad atletica che ha un'urgenza di essere rigenerata proprio per permettere anche ai ragazzi di potersi allenare al meglio. Abbiamo dei campioni e oggi proprio Alice è in finale in Slovacchia per cui per noi è un risultato di estremo vanto. Successivamente l'intervento invece prevede anche la riqualificazione della gradinata. È una riqualificazione sia di carattere energetico che appunto andrà a deficientare anche la struttura all'interno con una nuova copertura, ma anche di carattere architetturale di tutte quelle parti, di tutti quei massi che oggi erano cadenti e non permettevano appunto l'usufrutto. Davide quali sono le tempistiche? I due progetti dovranno essere realizzati in tempi molto stretti, in particolare il bando PNR in questione prevede l'affidamento dei lavori per entrambi i cantieri entro marzo 23 e quindi l'idea appunto di poter mettere la prima pietra e far partire quindi i cantieri nel secondo semestre 2023 è realistica e l'impegno più importante invece sarà proprio la realizzazione delle opere che dovrà avvenire entro gennaio 2026 con la chiusura di tutta la rendicontazione e la contabilità di progetto entro il primo semestre dello stesso anno, quindi del 2026. In questo momento siamo in una fase di progettazione verso gli esecutivi per poter arrivare a marzo del prossimo anno pronti a paltare i lavori. Soddisfatto il sindaco Seri che ha sottolineato come il comune già prima del bando avesse avviato alcune fasi della progettazione proprio perché questo intervento è sempre stato ritenuto un investimento strategico sia per l'atletica e per le altre discipline sportive sia per la città stessa. Abbiamo atteso un po' per cercare di cogliere l'opportunità di prendere risorse esterne non del nostro bilancio, ci siamo riusciti, ovviamente aggiungeremo anche risorse proprie dell'amministrazione però sarà un investimento che andrà completamente a trasformare, a valorizzare questa cittadella dello sport molto bella, apprezzata dai fanesi ma diventerà anche un punto di riferimento anche nazionale perché ovviamente la federazione stessa potrà fare dei suoi investimenti e potrà ospitare iniziative importanti.